Una frase che può sembrare incauta, che ha fatto sicuramente discutere quella del managerazzo Zavattaro, che non si farebbe curare negli ospedali del Chietino. Lei, signor Sindaco, invece si farebbe curare? Io sto qua e sempre in questa zona sono andato in ospedale. Io penso che la frase detta dal direttore generale sia una frase di una gravità assoluta. Oggi ci si arrampica sugli specchi dicendo che in quel contesto si voleva fare una battuta del sarcasmo, stimolare gli operatori sanitari a muoversi in maniera diversa. Però io penso che il linguaggio di un direttore generale debba essere quello corretto, coerente con quelli che sono i programmi che la regione porta avanti in tutta la regione Abruzzo. Il Sindaco di Lanciano sottolinea con forza che in quest'ultimo anno la programmazione sanitaria sul territorio ha subito un brusco e clamoroso rallentamento. L'atto aziendale è in ritardo, ma soprattutto è mancata la concertazione con i 104 sindaci dei comuni appartenenti alla Asle. Ho l'impressione che in questo anno e più di amministrazione, di gestione della problema sanità nel nostro territorio, si sia un po' brancolati nel buio. Ed è per questo che ritengo che sia opportuno che il direttore Zavattara rimetta la sua carica nelle mani dell'assessore della sanità e del presidente Chiodi, commissario della sanità. Per cui saranno poi loro a decidere, perché non è che si condizioni il lavoro di un manager con una frase più o meno gettata lì in maniera incauta. Ma chiaramente siamo oltre un anno, non c'è stata concertazione con noi sindaci. Gli operatori della sanità, parlo per Lanciano, addirittura si è costituito un comitato a Lanciano, dal nome cuore, che è sintomatico di quanto ci possano tenere gli operatori della sanità al nostro ospedale. Ma perché si è costituito un comitato? Perché probabilmente non ancora arriva un modello di gestione dell'ospedale di Lanciano che possa far sì che questi operatori della sanità, medici e paramedici, lavorino con una certa tranquillità e a distanza di un anno non è possibile. L'atto aziendale ritarda nella sua uscita, non sarà il frutto di una concertazione con noi sindaci. È evidente che quella frase è la goccia che fa traboccare il vaso. Ma che quindi non vuole...